Sì, senta, neanche Ponza funziona. Prego. Abbiamo trovato un cimitero stasera. Da Firenze in poi praticamente non c'era un radioforo funzionante. In effetti è un po' tutto fuori, compreso Ponza. Lei quanto ha in prua ora? Manteniamo 1,95. Va bene, mantenga. Andrà un po' più giù di Ponza di qualche miglio. Non c'era un po' più giù di Ponza di qualche miglio. L'Itavia 8,70, diciamo che ha lasciato Ponza 3 miglia sulla destra. Quindi quasi quasi per Palermo va bene così. Molto gentile, grazie. Siamo prossimi ai 2,50. Perfetto, 8,70. In ogni caso avverta appena riceve Palermo VOR. Sì, papà, l'Uvalina l'abbiamo già inserito e va bene. E abbiamo il DM di Ponza. Perfetto. Allora, normale navigazione per Palermo. Mantenga 2,50, richiamerà sull'Alfa. E' sull'Alfa la 8,70. Affermativo. Leggermente spostato sulla destra, diciamo 4 miglia. Comunque il servizio radar termina qui. Chiamate Roma aerovie sulla 128,8 per ulteriori. Grazie di tutto, buonasera. Buonasera a lei, 8,70. 115 miglia per Papa Romeo Sierra. Mantiene 2,50. Ricevuto, Itavia, 8,70. Può darsi uno stimato per Raisi. Raisi, lo stimiamo intorno ai 13. 8,70 ricevuto. Autorizzati a Raisi VOR. Nessun ritardo è previsto. Ci richiami per la discesa. Per Raisi, nessun ritardo. Richiameremo la discesa. E' corretto. Itavia, 8,70. Quando pronti e autorizzati a 1,1,0. Richiamate lasciando 2,50 e attraversando 1,5,0. Itavia, 8,70. Itavia, 8,70. Ricevete. Italia, 8,70. Qui è Roma. Ricevete. Italia, 8,70. Roma. Italia, 8,70. Qui è Roma. Ricevete. Air Molta, 758. This is Rome Control. Round, go ahead. Air Molta, 7848. Please, try to call for us. Try to call for us. Italia, 8,70. Please. Roger, sir. Itavia, 8,70. Itavia, 8,70. This is Air Molta. Charter 758. Do you read? Do you read? Negative contact with Italia, 8,70. Itavia, 8,70. Itavia, 8,70. This is Rome Control. Do you read? Itavia, 8,70. Itavia, 8,70. Wrong Control. Do you read? Air Molta. This is Rome. Wrong. Wrong. Go ahead. This is Air Molta. Okay, sir. We have Italia, 8,70. Unreported inbound Palermo. Please. Please, try to call for us. Italia, 8,70. Try to call for us. Italia, 8,70. Alitalia, 8,70. Itavia, sir. Itavia. Itavia, 8,70. Roger. Itavia, 8,70. Itavia, 8,70. This is Air Molta. Do you read? Itavia, 8,70. Do you read? Do you read? Do you read? Do you read?